E sono le 8.17 di venerdì 31 marzo 2023, lo avevamo anticipato nel nostro approfondimento. Oggi parliamo della manifestazione sportiva di una attesissima, forse una delle più attese, se non la più attesa manifestazione sportiva della città. Parliamo di Vivi Città e lo facciamo con uno dei volti storici della WISP di Bari, Elio Di Summa. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Purtroppo avremmo oggi voluto parlare col sorriso perché si sa che lo sport deve portare buon umore, racconta tante storie bellissime e ci porta anche a dei ricordi di persone che purtroppo ci lasciano, che sono legate allo sport. Parliamo di Mario Cardinale che purtroppo è un amico di Telebari, un grande amico di Telebari che purtroppo si è spento, si è spento ieri in tarda. Nel tardo pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri, un amico di Telebari, un tuo caro amico Elio, è un uomo soprattutto che ha dato tantissimo lo sport. Noi lo vogliamo ricordare, anzi magari se puoi farlo tu, perché insomma quando abbiamo letto la notizia, quando io ho letto la notizia stamattina insomma c'è stato un grandissimo dispiacere, perché proprio sapevamo, avevamo vissuto un po' tutta la sua vicenda personale, la sua malattia, l'ultimo periodo e anche quando, lui ce lo diceva sempre, quando interveniva qui, quando ci ascoltava, quando lo chiamavamo per lui, era comunque una maniera per riuscire ad affrontare la malattia, una forza per affrontare la malattia. Secondo me la città di Bari perde un'icona, una pietra angolare dello sport giovanile. Mario ha dato tanto, moltissimo, ed è stato anche molto sfortunato nella sua vita. Mario, io l'ho conosciuto da giovane, quando lui era anche un arbitro dell'Unione Italiana Sport per Tutti, ed è stato subito un rapporto molto stretto con lui, che è durato sino a qualche ora fa. Però nei confronti di Mario, Mario, come ho detto, è stato anche molto sfortunato nella sua vita, in quanto lui ha passato forse il periodo più brutto della sua vita in questi ultimi anni. Non lo dava molto a parire, non si piangeva addosso, però noi abbiamo creato una squadra. Una squadra, e voglio ringraziare da questi microfoni, in primis una persona su tutti, un pediatra dal cuore d'oro, Nicola Laforgia, che ci ha dato una grossissima mano per aiutare Mario, come è stato bravissimo anche Raffaele Pasquale del diacono della cattedrale, e anche Antonio Luca Torto. Questi quattro amici hanno fatto squadra e hanno cercato di ricercare di rendere meno pesante questo percorso che ha avuto Mario, che non è stato né facile né agevole, in quanto è stato veramente devastato sia dal punto di vista della sua malattia del diabete che dal cancro. Forse lui ha finito di soffrire perché ha sofferto molto in quest'ultimo periodo. Noi abbiamo cercato di tutto per aiutarlo e ci siamo riusciti in parte grazie a questa persona che ho pronunciato prima e che hanno fatto tanto e ha dato tanto per lui. Però è sempre stato poco rispetto a quello che lui ha dato a questa città. Io non vi nascondo che stiamo lavorando in questo periodo, abbiamo fatto telefonate a chi di dovere perché si è data forse quella tensione e quella dignità che quando era in vita non l'ha avuta. Noi riteniamo che Marito meriti questo percorso e che i funerali siano fatti nella maniera migliore e più degna possibile per lui. E naturalmente noi salutiamo Mario Cardinale, sperando che da qualche parte, in qualche modo, riesca a vedere il nostro Buongiorno Bari, un po' come faceva ogni mattina, quando poi ci mandava i messaggi, ci scriveva, quando poi noi lo interpellavamo un po' per parlare proprio di sport perché poi su quello era una delle nostre voci più affezionate, più care. Detto questo, noi oggi avevamo programmato proprio questo Buongiorno Bari, in realtà prima ancora poi di sapere chiaramente di questo appuntamento e ringrazio anche te Elio perché insomma mettersi a disposizione poi anche in un momento che comunque anche a livello personale, mi rendo conto, può essere comunque emotivamente comunque molto intenso e per questo te ne ringrazio. Dobbiamo parlare di sport, come avrebbe fatto Mario e come avrebbe voluto fare Mario e dobbiamo parlare di Vivi Città perché torna Vivi Città, torna una grande manifestazione sportiva, torna una manifestazione che forse per certi versi un po' è lo sport a Bari. Sì, è lo sport a Bari, il problema è che Vivi Città ha rappresentato tante cose che è difficile metterle insieme, io mi auguro che abbia la lucidità per poter interpretare che cosa è e che cosa rappresentate e rappresenta Vivi Città per questa città Bari, questa magnifica città che le ha dimostrate sempre molto affetto. Con Vivi Città noi siamo riusciti a parlare di ambiente, pochi metri da qui c'è Villa Giustiniani, un parco che noi vorremmo che prima o poi si realizzasse e che noi abbiamo adottato. L'abbiamo adottato, abbiamo piantumato degli alberi, l'abbiamo curato per un anno perché per noi l'ambiente è anche una questione di carattere fondamentale. E siccome non ci piace fare mai nella vita passerelle, ma dare sostanza alle cose che facciamo e come le facciamo. A me mi piace dire una cosa che forse può sembrare piena di retorica o di frasi dette delle circostanze. Io non vi nascondo che abbiamo buttato sempre il cuore oltre lo stacco. L'abbiamo fatto convintamente dando anche arrivare del tuo alla solidarietà, una solidarietà vera, concreta e attuata. 600 mila euro raccolti e dati pubblicamente non sono cose da poco e non avviene quasi in nessuna parte d'Italia. Molto spesso le corse sono diventate una forma in cui noi siamo stati i pionieri. Quando a Bari si correva i primi anni era molto difficile organizzarle perché non c'era ancora la cultura della corsa. Io l'ho detto in conferenza stampa e mi piace ripeterlo qui. Molto spesso le donne quando passavano da Bari Vecchio c'erano in termini di alettare qualche d'uno che in maniera molto poetica dice che c'è stato il caso. Oppure quando andava bene ai maschietti gli arrivava dei gavettoni. Ora la corsa è diventata un patrimonio di tutti. Io facevo le camminate. Un brutto incidente automobilistico che ho rischiato anche la vita. Da due anni a questa parte non mi permette più neanche di farle camminate. Ma io quando camminavo all'alba dalle 6 da casa fino a Pana e Pomodoro era francamente uno spettacolo vedere Bari sorgere il sole e vi consiglio a chi ha la possibilità ancora di farlo fatelo perché questa è una città meravigliosa e guardarla dall'alba sorgere il sole in quello splendido lungo mare con voi con quel bellissimo mare che noi abbiamo. Sono questioni imperdibili che molto spesso noi ci perdiamo per le piccole cose. Continuate a farlo perché correre è anche un elemento di vita che si dà speranza di una vita migliore e di una città migliore. Bari è molto cambiata da allora. Adesso è diventata una realtà non solo via città ma tante altre cose. E proprio su questo ti volevo chiedere. Nel frattempo ricordo i numeri per intervenire in diretta 085 014668 per le vostre chiamate 9998 invece per i vostri messaggi. Siamo arrivati alla 35esma edizione. Che cosa è cambiato da quella prima edizione? Soprattutto che cosa ti ricordi di quella prima edizione quando insomma sicuramente pensare a una manifestazione come pubblicità significa veramente... Oggi diciamo sembra anche più normale riuscire a organizzare una manifestazione del genere pur con tutte le difficoltà che sicuramente continuano ad esserci. Ma che cosa significava 35 anni fa pensare a una manifestazione di questo tipo? Dire... Organizziamo una manifestazione di sport in una città come Bari che 35 anni fa era molto molto diversa. C'era tutto quel contesto che hai citato poc'anzi. E francamente il problema è... Vigita... Premetto che è una gara nazionale e internazionale che ha avuto proprio l'idea e l'Unione Italiana Sport per Tutti a livello nazionale. Però Vigita ha anche una particolarità. Quando io dico che è una gara internazionale non solo si svolge in Italia ma si svolge anche all'estero. E la peculiarità di questa corsa, come diceva ieri in una conferenza stampa che ha avuto Stefano May, il presidente della FIDAL, Vigita aveva una sua peculiarità. Vigita ha attraversato tanti campioni che sono venuti qui. Anche Rotavo è stato il vincitore delle prime tre edizioni. Però tu mi facevi una domanda particolare. Che cosa ha rappresentato e che cos'è? Era la novità in assoluta. Non sapete perché? Perché si è inventato quando anche in quel periodo il computer era ancora una questione di venire. Ebbene, è stata inventata una corsa a circuiti compensati. Che cosa significava? Che si correva contemporaneamente in tutte le città italiane però c'era un solo vincitore unico. E come si poteva determinare questo vincitore? C'erano qui, abbiamo avuto giudici che venivano, guardavano le altre matrie e poi si faceva tramite il computer e si davano degli abboni a seconda della difficoltà del percorso. E si determinava in tutta Italia chi era il vincitore in assoluto. Questa era la peculiarità che l'ha ressa particolare in tutte. E chi sono stati i protagonisti di questo? Oltre l'Unione Italiana Sport per Tutti, l'LS. Quella LS che da Perugia l'ha lanciata e l'ha sostenuta insieme alla Repubblica. Abbiamo una telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Francesco. Volevo solo dire, volevo rapportare quel che state dicendo. Bari è troppo bello, mi piace. Anche se sei, diciamo, di parte che sono barista. Però voglio dire, veramente bella. Anche se ci sono le cacche, le buche, i laser, eccetera, eccetera. Ma mi piace lo stesso, è così com'è. Porta a Bari, buona giornata. Grazie, grazie per la bellissima chiamata. Intanto stiamo vedendo queste immagini che il nostro Federico Semplice, regia, ha recuperato dal nostro archivio storico. E tra l'altro ci stiamo preparando alla festa per i 50 anni di Telebari. Quindi insomma ne vedremo tante di immagini storiche della città. È bellissimo vedere, insomma, una delle edizioni, delle tante edizioni che ci sono state in questi anni. Insomma, sono delle belle immagini per chi ci sta seguendo in televisione un po' il segno anche della storia, di come c'è stata, di tutto questo cambiamento. Oggi, tra l'altro, oggi tu hai passato il testimone a un'altra grande persona che, insomma, si è presa il carico di portare avanti la WISP e anche di seguire tutte e quante queste manifestazioni e parliamo dell'Avvocato Veronica D'Auria. Insomma, il segno poi di un passaggio di testimone, proprio in senso sportivo del termine, un po' che ci fa capire quanto comunque questa manifestazione sia diventata parte della città. Sì, è diventata parte della città, però va anche detto e va ricordato che noi abbiamo passato anche un brutto periodo, non solo per il Covid, ma ci sono stati due anni di interruzione, in quanto prima questa manifestazione si riceveva fra il pubblico e il privato. Ci sono stati due anni in cui abbiamo avuto un'interruzione. Abbiamo avuto un'interruzione perché non avevamo più la forza per poterlo organizzare, in quanto al di là della situazione, questa è una gara complessa e quando nel momento tu conigui tanti valori, non è facile portarla avanti. Veronica ha ereditato questa passione, però devo anche ringraziare coloro i quali hanno raccolto questo testimone. Contro anche la mia volontà può sembrare paradossale perché francamente, io avendola programmata, gestita per tanti anni, so le difficoltà in cui si andava incontro e le difficoltà, credetemi, sono di tanti e sono anche numerose, specialmente quando si fa, come ho detto prima, lo fai con cuore e con passione e non per altri fini. Certamente, certamente. Che cosa ti aspetti da questo fine settimana, da questa manifestazione quest'anno? Sappiamo che ci sono anche dei temi che portate avanti proprio perché deve essere una manifestazione che attraverso lo sport veicola anche tanti altri messaggi. Che cosa vi aspettate proprio da questa manifestazione e qual è il messaggio che volete far passare? Il messaggio quest'anno la WISP nazionale ha la corsa dei diritti e non solo dei diritti ma anche dell'uguaglianza. In Italia, in maniera sempre più devastante, le pari opportunità e anche le disuguaglianze vanno aumentando. Noi riteniamo che questo sia un voto che non deve essere riempito perché non è possibile che c'è tanta gente che soffra, tanta gente che vive in povertà e che questa città e in generale l'Italia passa un periodo estremamente difficile e particolare. Faccio un esempio fra tutti. Adesso faccio una divagazione. Io ho l'impressione che in questo Paese ci sia poca programmazione per il futuro, ma si lavora e si programma tutto e si vive carpe diem per il consenso fino a se stesso. Io invece ho ritenuto anche al Capo Casale di fare una scommessa che nessuno avrebbe fatto. Ho dotato quella struttura che non è un impianto privato, è un impianto del Comune di Berlo. Ho dotato in tempi non sospetti, 12 anni fa, dell'impianto fotovoltaico. E per farlo ho dovuto fare una fiducia di carattere personale. E quando mio figlio è venuto a saperlo, giustamente, mi sono sentito in imbarazzo perché in maniera estremamente franca, diretta, mi ha detto, ma scusi, fammi capire, tu alla verità ti sei rincretinito. Non fai a me un'affidizione personale di 110.000 euro e la vai a fare per il Comune di Berlo. Beh, ebbene, io sin quando sono stato presidente ho pagato solo i debiti perché noi abbiamo avuto un finanziamento per coprire quella impresa da banca a prossimo. Però le banche, quando ti danno i soldi, gli dicono, amico caro, il conto viene dedicato. Cioè significa che sin quando tu non finisci di pagare, tutti i soldi che ti dà il GSE vanno in quel conto dedicato. Ebbene, io quando sono stato presidente non ho potuto toccare, anche se qualcuno, in maniera molto cattiva, perché questo è un altro aspetto di questa città. Molto benevole, pieno di slancio, pieno di generosità, ma c'è anche una parte estremamente ridotta che pensa sempre al male, non so perché, vive di gerosie, di invidie. E pensavano che noi personalmente, chissà quale è, noi abbiamo dimostrato, non solo noi, che quei determinati non si potevano toccare. E che cosa voglio dire? E che adesso la WISP gode, ecco perché si guarda in prospettiva, del beneficio di quegli investimenti. Io non sono più il presidente, ma adesso i soldi che arrivano dal GSE li utilizza la WISP e li può utilizzare per fare altre iniziative, non solo di velocità, nel pattinaggio, nella ginnastica ritmica, nell'aiutare gli ultimi, affinché quell'impianto diventa un impianto di tutti. Sapete come abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'attività non commerciale. Invito tutti, faccio una sfida da questi microfoni, da quella che è stata anche a casa mia, perché in questa Tile Bar, io sono stato con il padre, l'ho vista nascere qualche anno, la prima edizione con il televisore che stava a fianco, qui, alle mie spalle. Era un televisore piccolo, però il padre, Mazzitelli, ebbe la capacità, l'intuito, di guardare molto avanti quando allora è estremamente difficile, perché questa è stata anche la prima televisione privata, se non sbaglio, in Italia. E questa cosa non va dimenticata, come poi Dante Mazzitelli ha preso questa situazione e l'ha fatto. Io ero di caso, con Fortunato dell'Orzo, con Michi di Ruvo, di qui è passato tottiettata, sono nati i più grandi giornalisti che sono andati poi in Rai, praticamente, scusate se ve lo dico, Tile Bar ha fatto la storia, e io sono orgoglioso di aver fatto per un periodo parte di questa famiglia. Cioè hai fatto un ottimo spot per i primi 50 anni, Elio. Noi ci avviciniamo alla chiusura, anzi abbiamo già sforato con i tempi, però al volo io volevo dare un saluto a Rino Piepoli, che è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno Rino. Buongiorno, buongiorno. Che abbiamo sentito già la settimana scorsa, però io un passaggio lo volevo fare, anche se poi in realtà mi stava dicendo proprio Elio, che insomma ci sono i piccoli infortuni di percorso, non soltanto dell'atleta, ma del cittadino, che poi ogni tanto possono bloccare un atleta. Però diciamo che con la voglia e con la tua forza d'animo in qualche modo per questo ViviCittà ci sarai lo stesso, magari non come corridore. Sì, assolutamente non come corridore, però perlomeno con un braccio daremo la carica ai... Pronto? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Daremo la carica ai 3.000, penso anche oltre, atleti e non che parteciperanno alla 35esima edizione. Permetti di dire un ringraziamento di cuore a Rino, mi ha dato l'opportunità, oggi Rino doveva essere qui con noi, non lo è perché ha subito un leggero infortunio, però Rino è una persona che nel momento del bisogno si è avvicinata alla Wisp e ci ha dato una pietra angolare. Oggi è un punto di riferimento certo insieme agli amici della Passo per la realizzazione di questa manifestazione. A Rino va il mio riconoscimento eterno per quello che ha fatto e per quello che continua a fare per mantenere in piedi questa manifestazione. Elio, molto, molto velocemente, ci si potrà iscrivere fino alle... Fino a domenica mattina, fino a domenica mattina per tutti quanti, mentre per i competitivi le iscrizioni sono chiuse. Ma per il comune cittadino, per chiunque voglia partecipare, anche domenica mattina può farlo. Ok, mi raccomando, iscrivetevi, partecipate in qualche modo, anche se vi dovete fare una camminata, perché come ha detto Elio prima, farsi una camminata, insomma, anche su questo bellissimo lungomare. Si può fare anche, per esempio, con un braccio ingessato, non lo so, Rino. E infatti, io sarò lì comunque con un braccio ingessato. Patienza. Va bene, va bene. Abbiamo sforato tutti i tempi, grazie Elio Di Suma della Wisp, grazie a Rino Piepoli che si è collegato con noi adesso telefonicamente. Vivi città, partecipate, partecipate, partecipate. Insomma, è Vivi città, è Bari, è lo sport a Bari. Linea al GR, Giuseppe Bellino.